Sto raccogliendo qualche opinione in giro, cara Maria, come... Siamo sempre noi, quelli del concorsore, quelli del giro Tondini, quelli... Non mi ricordo più, se non ora, quando, siamo sempre noi. Quindi diciamo non vedete i giovani... Non vediamo i giovani, non vedete i giovani... Siamo sempre noi, i giovani, e questo non è una bella cosa. Senza offendere nessuno. Quindi dobbiamo dirci giovani dentro? Noi siamo i giovani dentro. Giovani dentro, giovani fuori invece ce ne sono pochi. Non abbiamo saputo comunicare, evidentemente. Quindi dobbiamo prendere esempio da Renzi, che dicono che sappia comunicare? Beh, anche i fatti, anche i dati, ma i nostri... Quindi io vi noto un po' di...